A me piace lavorare proprio su quello che va fatto in campo, cercare di, anche se il tempo è poco, sicuramente provare a dare dei compiti e a dare delle cose dove i ragazzi possono trovarsi in campo e avendole provate magari capire cosa fare. Poi c'è ancora tanto da fare perché in fase di possesso siamo ancora tanto macchinose, abbiamo usato pochissimo i quinti, dovevamo secondo me fare anche il terzo gol perché non si sa mai perché prendi un gol e poi si apre tutto, però come atteggiamento, come intensità e come anche ha detto bene, come voglia di provare a mettere in pratica quello che è stato fatto, sono molto soddisfatti in questa gara. Sì, è vero, è stata una partita da squadra, anche se poi bisogna ribadirlo ogni volta perché non è mai scontato, nel senso che questa è, avevamo detto ieri, è il giorno zero, adesso siamo il giorno uno, ma il giorno uno non deve farci sentire soddisfatti. Abbiamo tolto l'ultimo posto da classifica, è qualcosa già buono, però dallo stesso tempo dobbiamo solo pensare ancora a lavorare da tutti i punti di vista. Sono contento che abbiano segnato i due attaccanti, potevamo segnare anche con altri giocatori, però mi piace, mi piace come atteggiamento, mi piace l'atteggiamento che ha avuto Cristian, mi piace l'atteggiamento di tutti i ragazzi perché vi garantisco che sono andati in fatica e in fatica sono stati bravi a rimanere concentrati su quello che andavamo fatto. Poi c'è stata tanta sofferenza, siamo partiti per andare a prenderli alti, i primi dieci minuti secondo me è venuto un bel segnale, logico che poi per prendere una certa maniera devi andare a limare gli automatismi e ancora c'è da lavorare, perché dopo un quarto d'ora siccome qualcuno era già che un pochino boccheggiava, però questo credo sia normale dopo qualche giorno d'allenamento, soprattutto quando, e continuo a ribadirlo, io non vado a giudicare chi ha lavorato prima, quando gli chiedi corse diverse, certe corse hanno bisogno di un lavoro diverso, quindi insomma va bene così, poi anche gli attaccanti hanno dato una grande mano in fase di non possesso, quindi magari può essere che nel momento in cui dovevano andare a segnare un pochino di lucidità è anche mancato. Prima che mi dimentichi, dovrei fare due dediche però per questa prima gara. Una per Ernesto, per il medico che io ho conosciuto da avversario, però so a quante persone sono legate a lui, sia a livello di società, di squadra, di ragazzi, sia a livello anche di città. E un'altra dedica la dedico a mia figlia che oggi fa 16 anni, come papà penso su assente, e quindi ogni tanto bisogna almeno queste piccole cose ricordarsi.